benvenuti nel solito appuntamento mensile dei giochi del playstation plus andiamo a vedere insieme i giochi scaricabili da oggi martedì 4 gennaio 2021 c'è dirt 5 della codemaster un bellissimo gioco di auto diciamo che questo è arcade ok un bel giochino arcade bellino direi sì devo dire che sia per ps5 che per ps4 è un bel giochino allora deep rock galactic questo ragazzi non lo conosco e voglio proprio voglio proprio vederlo è in versione ps5 in versione ps4 è un gioco sparatutto un po particolare credo è vedendo anche un po come fatto è stile cartonoso sembra bello sembra bello non so dirvi se in italiano o se tutto in inglese ma questo è il gioco andiamo a vederlo lo vediamo insieme ragazzi andiamo un attimo cosa dice i sottotitoli ci sono perfetto sottotitoli italiani dopo andiamo con l'ultimo gioco che persona 5 striker chiaramente non è la versione di persona ma è il sequel quello dopo di persona 5 e che chiaramente è in italiano ci sono i sottotitoli in italiano ragazzi non so capire perché non mi carica le immagini ma da adesso la caricata sottotitoli in italiano questo è lo striker ok ragazzi quindi non è persona 5 ma è persona 5 striker vabbè non mi carica le immagini dietro ok e niente e come tutti i mesi mi raccomando di iscrivervi a playstation plus e di seguire il canale di marco drama games su youtube facebook twitter instagram tik tok twitch discord e youtube twitch attivare la campanellina mettere un mi piace commentare portare gente sul mio canale ciao amici miei alla prossima ci vediamo al mese di febbraio ciao ciao